è stato chiesto di fare un piccolo tutorial su come si fa fare il waypoint col seafly dream e quindi facciamo questo esperimento spero che funzioni proviamo allora la prima cosa da fare e decollare decolliamo con quella automatica a questo punto dovremmo verificare se il drone sta fermo direi che c'è molto vento e quindi non sta funzionando estremamente bene a questo punto andiamo in modalità mappa può funzionare sarebbe interessante ma non funziona bisogna registrare non riesco a andare in modalità mappa quindi a questo punto sospendiamo questa prova riproviamo a decollare il drone è sempre abbastanza immobile un po più alto a questo punto proviamo a impostare qualche waypoint non porta una quota di sicurezza ed ecco che esegue il volo non 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.